Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it Bene, allora la squadra avversaria sostanzialmente è una delle poche di questo campionato che non ha cambiato veramente niente né nella struttura né nel modo di giocare, è una squadra che ha delle chiavi di lettura molto chiare improntata sulle caratteristiche dei due giocatori americani che sono la coppia più prolifica della nostra conference in termini di possessi giocati, in termini di punti prodotti, di assist, di tiri effettuati insomma chiaramente la gestione economica della squadra passa dalle mani di questi due giocatori che sono due giocatori solo apparentemente simili, in realtà molto diversi perché Bowers pur essendo un capacissimo realizzatore, sta viaggiando a quasi 19 punti di media è veramente il tipico giocatore di squadra, quindi che costruisce gioco per sé e per gli altri uno dei migliori assist man della Lega ma che nella testa ha prevalentemente la capacità di mettere in ritmo tutti i componenti della squadra, invece Davis è proprio il tipico realizzatore cioè un giocatore in grado di fare punti in tanti modi e con questo grande corpo che gli permette anche di prendersi delle conclusioni contestate e ciò nonostante efficaci. I due lunghi sono due giocatori molto compatibili con questa struttura di squadra perché uno si fa forte della sua duttilità e sto parlando di Benevelli, un giocatore che può far male nelle situazioni di taglio ma anche nelle situazioni di pop o per usare un termine italiano nella sua capacità di aprire il campo nel momento in cui le difese si concentrano sulle iniziative di uno contro uno degli americani e l'altro invece è Marco Maganza che è proprio il classico giocatore interno, eccellente bloccante, giocatore di roll che gioca sugli scarichi e soprattutto un rimbalzista attacco di grande qualità perché al solito quando le difese si concentrano molto sulle attitudini dei due giocatori americani spesso qualcosa viene lasciato in termini di contatto nel tagliafuori e quindi lui ne approfitta con la sua capacità di essere efficace ed efficiente al rimbalzo attacco. I due playmaker in realtà non sono due playmaker nel senso che non è a loro richiesto avere dei compiti di regia, sono due giocatori molto funzionali perché non hanno bisogno di avere giocate per se stessi, prendono quello che da Bowers e da Davis nasce e poi la panchina è costituita prevalentemente da Piccarelli e da Ian Elize che sono altri due giocatori di squadra che giocano utilizzando quelle che sono le giocate dei giocatori americani. Quindi questa è un po' la presentazione dei nostri avversari che dal punto di vista del tipo di campionato che stanno facendo l'ho detto anche qualche giorno fa quando abbiamo dovuto mandare il piccolo report di presentazione della gara alla Lega, secondo me stanno facendo una stagione straordinaria ma che aveva già tutte le premesse di esserlo perché già nel girone d'andata quando stavano perdendo partite avevi proprio la sensazione che fosse un gruppo che avesse una chimica ben precisa e funzionale e infatti poi è bastato inanellare un paio di successi perché questa squadra uscisse rapidamente dalla zona più pericolosa della classifica e con grandi merito si affacciasse invece nella parte della classifica che guarda verso i playoff. Quindi è un avversario molto pericoloso, un avversario che sta bene in salute, lo abbiamo visto anche nelle ultime gare, una squadra che ha saputo portare via una vittoria molto molto importante a Treviso che ha giocato testa a testa nella partita contro la fortitudo, quindi una squadra in grande salute sarà veramente molto pericolosa perché sono le classiche squadre che hanno poco da perdere in partite come queste e molto da guadagnare quindi noi siamo già stati scottati nella partita casalinga contro Ferrara quindi dovremo tenere gli occhi molto aperti perché questa è una partita veramente molto complicata che viene a concludere peraltro un ciclo di gare molto ravvicinate nelle quali noi dovremo anche trovare la capacità di ritrovare quel bagaglio di energie che è indispensabile avere per giocare contro squadre di questo tipo. Avevi detto che Chieti era da molto importante, ne hai avuto la conferma anche nei giorni seguenti e trasferte anche il Manicero? No, la partita di Chieti era molto importante perché per tutto quello che era il pregresso dell'ultimo periodo vincerla secondo me dava a questa partita un significato particolare secondo me se l'avessimo persa non sarebbe cambiato niente, averla vinta invece aveva un significato particolare, infatti avevo proprio detto questo, che era la nostra vittoria a Chieti che avrebbe avuto un particolare significato. Nei giorni dopo ci sono stati dei grandi riferimenti a quella gara talmente strana, talmente fuori dalle regole è stata la partita di Chieti perché onestamente l'abbiamo veramente portata via con le unghie perché a un certo punto neanche sapevamo chi sarebbe potuto scendere in campo o meno dopo quello che era successo, quindi in questo senso qui la partita è stata molto significativa. La partita di domani si riflette poco nei confronti della partita di Chieti se non per quelli che saranno le conseguenze di natura strettamente fisica e anche medica sui giocatori che hanno giocato a Chieti, quindi questo sarà l'unico riflesso secondo me che da Chieti ci porteremo dietro nei confronti della partita di domani. Come ne stanno? Allora Michelori di fatto non si è mai allenato perché la botta alla schiena, cioè la botta non è stata una botta, il problema alla schiena si sta pian piano risolvendo però non gli ha consentito di allenarsi nei giorni in cui noi siamo tornati in palestra e Spizzichini è quello che deve essere monitorato con più attenzione perché chiaramente anche se sono stati esclusi fortunatamente, problematiche di natura neurologica, la verità è che poi ieri lui ha provato ad allenarsi, una prima parte dell'allenamento l'ha fatta, poi dopo ha avuto di nuovo mal di testa quindi l'abbiamo dovuto rifermare, stamani abbiamo fatto un allenamento dove di fatto non abbiamo giocato 5 contro 5 proprio perché c'era bisogno di recuperare energie più che di preparare la partita. Ecco la partita l'abbiamo preparata cercando veramente di concentrare pochi concetti e invece il recupero delle energie fisiche di Gabriele e di Andrea ma soprattutto di quelli che hanno giocato a Chieti 40 minuti e più quello era l'aspetto più importante quindi in questo senso dicevo che la partita di Chieti si attacca a quella di domani sera solo per questo motivo perché poi per quanto riguarda invece la parte diciamo più prettamente sportiva cioè legata alla classifica secondo me sono due partite che hanno due significati molto diversi. Loro sono una squadra che ha molto di parziali, l'hanno fatto con voi all'andata, l'hanno fatto anche con la fortitudine una settimana fa, come si affronta una squadra di questo tipo? Ma più che di parziali secondo me vive del bene e del male che questi due giocatori riescono a mettere in campo cioè ci sono momenti in cui questi giocatori vengono un po' soffocati dalle difese avversarie allora magari loro nella produzione dei punti vanno più in difficoltà e momenti nei quali invece a prescindere da quello che si trovano davanti riescono ad essere efficaci ed efficienti e quindi quelli sono i momenti nei quali possono dare parziali agli avversari anche nelle partite più recenti a cui facevi riferimento è successo così. Non è una squadra facile da incontrare, non è un cliente comodo da incontrare, assolutamente no? Perché poi rischi sempre di cadere nell'equivoco no? Cioè cercare di limitare troppo quei due significa lasciare troppo agli altri oppure lasciare che questi giocatori possano in qualche modo avere qualche giocata in più significa magari accenderli e trovarti davanti a gente che può mettere dentro 25-30 punti quindi ci vuole il giusto bilanciamento, ci vuole la giusta attenzione sapendo che poi è sempre un gioco di squadra e quindi è la squadra alla fine che fa la differenza anche nella capacità di limitare dei giocatori con queste qualità e queste caratteristiche quindi pensare che possa essere soltanto uno scontro di uno contro uno è un pensiero secondo me poco intelligente, in realtà la squadra deve avere la forza di limitare loro e allo stesso tempo anche di non lasciare che gli altri possano prendere troppo vantaggio dalle qualità di uno contro uno e di situazioni di blocco sulla palla che questi giocatori hanno perché poi di fatto tanto per darvi un dato c'è Bowers in tutto il campionato di A2 quindi 32 squadre è il giocatore che produce di più nelle situazioni di blocco sulla palla ma non soltanto per sé anche per gli altri c'è un giocatore che produce quasi 15 punti dal pick and roll quindi tanto per darvi un'idea di quanto questo giocatore sia efficiente in questo fondamentale e come sapete le situazioni di blocco sulla palla non coinvolgono un solo giocatore, ne coinvolgono due nella collaborazione e altri tre nelle rotazioni quindi capite bene che la qualità di quello che riesci a fare a livello di squadra fa la differenza per poter provare a limitare i giocatori così. Alla luce dei problemi ti aspetti una partita strana o di molto cuore, di molto orgoglio o hai ritrovato certezze in queste ultime due partite che ti fanno pensare? Ma senti, io onestamente una partita strana come quella di Chieti vorrei evitarla perché mi sembra, vai veramente al di là di quello che può essere soltanto lontanamente ponderabile e preparabile perché hai tre giocatori fuori, ce ne sono tre che a turno escono praticamente uno dietro l'altro e uno dei tre non rientra più quindi insomma è stata veramente una partita che abbiamo dovuto gestire cogliendo l'attimo ecco onestamente mi auguro che la partita domani sera non sia così dal punto di vista della gestione della gara perché la gestione della gara di Chieti è stata veramente complicata però visto il personale a disposizione mi aspetto una partita dove la differenza la farà di nuovo la capacità di sacrificarsi e di soffrire non siamo ancora nella condizione di poter avere partite diverse da queste, ecco le nostre ultime partite sono state quelle lì, poi è chiaro che contano anche gli avversari nel senso che trovi Udine che è in una situazione di straemergenza e allora la partita diventa facile ma se trovi delle squadre che sono in una condizione di salute normale in questo momento chiunque ha un livello di salute superiore al nostro e quindi noi per vincere partite con squadre stanno bene dobbiamo soffrire combattere e sacrificarci non c'è alternativa a tutto questo auguriamoci che dopo questa partita possa esserci qualche spiraglio di sereno perché ne abbiamo bisogno anche perché poi non è che riesci sempre a tirare la stampella al di là dell'ostacolo quindi domani sera ci sarà bisogno di tirare un'altra volta il cuore al di là dell'ostacolo perché la partita sarà complicatissima da questo punto di vista A Chieti l'abbiamo fatta per 20 minuti, è nel nostro DNA, la usiamo, la sappiamo usare, l'abbiamo usata tante volte in tante partite quindi è una cosa che fa già parte del nostro repertorio però sai quando quando il numero dei giocatori è quello poi dopo è l'idea di cogliere il momento cioè nel momento riesce a capire se l'uso di una di uno strumento tattico può darti una mano oppure no quindi prepararla poi sai prepararla siamo tornati alle 4 del mattino di giovedì mattina siamo tornati in palestra ieri pomeriggio senza cinque giocatori e oggi per la prima volta abbiamo fatto solo del 5 contro 0 perché non avevamo i numeri per fare il 5 contro 5 quindi preparare sì sui concetti ma soprattutto noi dobbiamo essere pronti come staff a cogliere i momenti quindi direi che fino a oggi siamo sempre stati pronti a cercare di cogliere quelle che potevano essere i punti di vantaggio o magari anche le situazioni contingenti dovremmo essere ancora di più pronti domani sera perché per noi ripeto è la terza partita in otto giorni in una condizione di grande emergenza quindi dovremo capire tutto dei nostri giocatori tutto nel momento non tutto oggi perché oggi dovessimo pensare a come siamo oggi prepareremo una partita che invece domani dovrà essere diversa quindi sarà domani il giorno importante e quindi domani noi dovremo essere veramente come i farmacisti pronti a mettere e togliere quello che è necessario per portare a casa una vittoria perché alla fine quando arrivi a giocare partite come questa qua l'unica cosa che conta è vincerla poi la parte estetica ci possono dire che a Chieti abbiamo giocato male ma a noi ce ne frega nulla perché tanto volevo vedere gli altri che giocavano bene in quelle condizioni ma giocando male racconta portando a casa e domani sera malissimo ma portiamolo a casa è l'unica cosa che ci interessa in queste condizioni è meglio attaccare subito la partita oppure vedere come si sviluppa e essere carichi alla fine? la scena è risposta è chiaro che nelle partite cominciare male non va mai bene perché poi ti mette ti mette addosso cioè perlomeno ti obbliga a fare delle cose tipo accorciare le rotazioni ecco tutte queste cose qui non sono mai positive soprattutto quando giochi con un roster ristretto quindi avere il giusto approccio alla gara è sempre il modo migliore se devo scegliere preferisco gestire un vantaggio che non ricorrere uno svantaggio quindi questa è la risposta che ti do però poi ci sono anche gare nelle quali devi rincorrere allora ti metti lì spingi sui pedali e rincorri però di solito se riesci a mantenere la partita su dei canoni più di equilibrio o di vantaggio è meglio piuttosto che trovarti subito a dover rincorrere quindi l'approccio alla gara in partite che giochi in condizione di difficoltà è sempre meglio che sia un buon approccio in generale è sempre meglio che sia un buon approccio ma in particolare in un momento in cui devi anche fare il conto sulle energie disponibili tutte le notizie sullo sport di bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it